Numero 7 Francesca Calata Il numero rosso sta a sfidarlo per noi Francesca Calata Numero numero 7 per la Giulia E siamo avanti con il numero 8, 2 di Gennaro E con il numero 7 Francesca Calata Ciao Francesca Allora, iniziamo subito con il tuo sogno nel cassetto Cosa vorrei fare? Stai nel campo della moda Stai già studiando qualcosa di... No, sono per a finire di acqua entro E quindi dove sei? Sono di Arama, però non sono nata qua Sono nata a Los Angeles Ah, sei nata a Los Angeles, è una cosa che mi incuriosisce Hai la mamma, naturalmente, americana o no? Mia madre è vestigiana e americana E mio padre è italiano Allora, l'applauso numero 7 Francesca Calata La nostra numero 8 si chiama Noemi Gennaro Ragazze! Ragazze di questa sera, le 15 ragazze che sfideranno per voi Vi potete accomodare ragazzi Facciamo un giro ancora, dai, un giro la passerella Facciamo un bel giro della passerella E poi iniziate tutte le guardie, via! Ok? Tutte insieme! Le ragazze di Miss Moac 2012 Accompagniamolo con un applauso, eh! Al pubblico del Moac Ebbene, questa era la prima uscita in amici sportivi delle nostre 15 Miss Numero 7 Francesca Calata Numero 7 Francesca Calata Ah, sei lì da Bodyguard Questa è la numero 8 Nuemi Io sono ringato E la polla Grazie. 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 Grazie per l'ultimo cambio per mettervi il costume per poi ovviamente così premere un po' tutte quante perché siamo quasi in dirittura ovviamente per la parte finale di questa nostra Miss POAC 2012. Grazie, avete visto come sono belle le ragazze che abbiamo scelto quest'anno. Numero 7, Francesca Galata. La numero 8, Noemi Gennaro. Benissimo, dai, è una cosa simpatica. Votateci, dai. Questo era l'urlo delle ragazze, ok? Bene, è arrivato il momento. Allora, è il momento di farle sfilare ancora tutte quante insieme e poi, di nuovo, è a soffrire naturalmente per il finale di Miss POAC 2012. Le ragazze, per voi, l'applauso del pubblico del Moac. Allora, Giulia, avete votato? Tutto a posto? Grazie, tutti sul palco, a musica, grazie. Viva la. Eccole qua. Una sfilata, ragazze, di nuovo, in mezzo al pubblico e poi vi riposizionate naturalmente. Elana, Chimeriana, Francesca, Donami, Chiara, Francesca Lazzoni, Cristiana, Alessandra, Famiglia, Giulia e Alessia. Eccole qua. Tutte bellissime, tutte sciolte, vi auguro che vi siate rivestite veramente tutte. E allora, a loro, e dunque Silvia, un amaccio per tutte quante le ragazze della Miss POAC. Con me ci mandano anche, tranquilli, è tanto ormai andata, è andata, è andata, l'importante è che vi siate rivestite. Certo, quello, se la nostra Silvia merita un applauso, perché è la nostra ragazza che ci ha dato una mano, poi si va alla valentina in tutta la settimana, vero Matteo? E sono state, hanno regalato anche i gadget dalla nostra radio, davvero una parte fondamentale. Ci sono ancora due mangi, mangi floreali, perché non potevamo dimenticare la giuria, la nostra Presidente in giuria, la nostra Fiori Gori, naturalmente i fiori anche per loro. E la nostra Miss, sarà nostra, ovviamente, testimonia alla Notte Bianca e in tante altre manifestazioni. Scusate, questo ho sbagliato la data? Sì, 15 agosto ormai. 15 settembre, va bene, ok, è chiaro. Miss Leclerc che la richiede a soffrire, dunque, questo centro commerciale protagonizza anche al Moache. Eccola la busta, direttore, qui la fascia, naturalmente, e così vediamo. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok, allora, attenzione, direttore, lei l'ha visto? L'avete visto tutti? Bene. Veronica, è una bellissima ragazza, ti dico che è la numero, 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 attenzione, la numero... Otto, nove, diciamo, perché è una foto con tutte quante insieme, perché siete veramente tutte state protagoniste di questa serata, qui al Moache, vero, vero? Sono state bravissime, anche molto sciocce e ho visto che si sono divertite, e quello è importante. che approfitto per ringraziare Stefania e tutta la Multimedia 3, Francesco, Andrea, per avermi dato ancora quest'anno questa possibilità, io non so, ecco, se l'anno prossimo sarò qui al Moache, però ti ringrazio a te, a Francesco, con un grande bacio per questa grande opportunità, per questa grande amicizia. Dunque, grazie, grazie a tutte le ragazze. Un ultimo ringraziamento alla conciatura... Succede? La Beauty and Air School, che ha sede appunto ad Arma di Taggia nei locali della nuova stazione. Ringraziamo anche l'Accademia Formativa Scuola Estetica, con i locali ad Imperia e via Belgrano, e con la Beauty and Air School ad Arma di Taggia nei locali della nuova stazione. Un ringraziamento particolare. Grandi collaboratori del Moache e, naturalmente, di Miss Moache. Un ultimo applauso a tutte le Miss, vai, via, forte, a tutte!